Bella raga, ciao a tutti nel Comandone Veneziano! Allora, oggi siamo su Magic e siamo con un mazzo che di rforfana è poco. Siamo in model con un mazzo tribale, cani e gatti. La cosa più pazzesca che ci sia, con il fatto che è uscita con M21, Rhin and Sury, inseparable. Mi sembra il caso, insomma, di provarlo, visto che amo i tribal, ne ho tantissimi. Tra Kitkin, Elfi, Umani, Goblin, Angeli, Vampiri, Demoni, ne ho altri che non ricordo, sinceramente. Anche se non è proprio un tribale, però anche con Pegaso e cavalli, insetti, comunque generali. Non è proprio un tribal, ma quasi, pirati, maghi. Cioè, insomma, diciamo che comunque elementali. Va addirittura un vassalle, cioè robe proprio da ragazzo con un sacco di problemi. Uccelli, siamo pieni di tribal. Quindi, questo non poteva mancare. E allora, spieghiamo brevemente il mazzo, le terre, insomma, sono quelle, non lo voglio spiegarle. Non te le sapete male di me, in realtà sentiamo di spiegare il mazzo da me, ma va bene. Preciso la Cyborg, l'ho fatta in un secondo, l'ho appena fatto il mazzo, perché ho appena preso la carta Lineal Serie. Abbiamo un incantesimo, 9 vite, che praticamente ha Exproof. Ogni qualvolta una fonte mi fa danno, metto un segnalino su 9 vite, fino a quando non arriva 9. Quando arriva 9, saluto la partita e perdo. Quindi, molto rischioso, però voglio provare. Poi abbiamo Planeswalker a Gianni, che praticamente con più 1, guadagno punto vita, parla alle creature, il Planeswalker controllo. Meno 2, crea una 2-2 a Gianni Pridemade, che ce l'ho anche in creatura. E a 0, vabbè, penso che non la faremo mai. Sotto mazzo l'ho messo semplicemente perché volevo un Planeswalker a tema con il mazzo. Sapete, me sono mazzi for fun. Se volete mazzi competitivi, chiedete subito il video, salutatemi con un ciao. E' andato in un'altra parte, lo dico già. Quando ho 15 più punti vita, insomma, posso, come si dice, esiliare l'esilio a Gianni e gli artefatti dei creatori dell'avversario. Poi abbiamo il Corina in serie inseparabili. Praticamente costa 4. Ogni qualvolta cast un cane crea una pedina gatto 1-1. Ogni qualvolta cast un gatto crea una pedina bianca 1-1 cane. Con una montagna, una foresta e una pianura, ai tappo Rinne in serie. Faccio danni pari al numero di cani in controllo e prendo il punto vita pari a ogni gatto in controllo. Poi abbiamo 3 Lurrus, che mi riprendo dal cimitero permanente al costo 2 o meno. Caera, che do più 1-1 ai gatti, purtroppo non ha i cani. Però era bella, volevo metterla. Selfless. La sacrifico e la donna istruttibile è una creatura, quindi serve come protezione. Poi ha Gianni Pride Mate. Come per il Planeswalker, ogni qualvolta è una 2-2. Ogni qualvolta è un punto di vita e prende più 1-1. Pack Leader è il Lord dei cani. E previene il danno da combattimento quando attacca. Poi abbiamo Brimaz, un bel gattone, che praticamente quando attacca crea una pedina 1-1, che è attaccante. E quando difende, crea una pedina 1-1, che difende. Tutti hanno cautela, sia Brimaz stesso che le pedine che va a creare. 4 Pat Exile per difendermi. E 4 Journey to Know Weir. Sì, cos'è? Il viaggio del nulla. Che praticamente esilo la creatura avversaria finché lei rimane in campo. Quando muore, chiaramente torna all'avversario. Poi qua abbiamo la side, ho messo 3 Relic per i cimiteri. 2 Relic per i spari. 4 Stony Silence. Se il mio avversario ha artefatti forti. O comunque da bloccarli, perché con questo blocca le abilità attivate degli artefatti. Di tutti. E poi abbiamo sempre, se ho bisogno di tante tante rimozioni. Suspension Field, che esilia una creatura con costituzione 3 o superiore. Quindi comunque, sì, è una carta un po' rischiosa, perché non è semplice. Soprattutto per le creature forti. Seel Away, che ha Flash, esilia una creatura attaccante. Una creatura tappata, scusate, avversaria. Finché lei rimane in campo, un po' come il viaggio del nulla. Amoraga, l'ho spiegato un po' così. Un mazzo super for fun. Vediamo le vaneggiate, l'ho appena fatto. Prevedo, vaneggi incredibili. Ok ragazzi, ci siamo. Siamo contro Bidol. E vediamo insieme la nostra prima partita con... Questo curioso mazzo. Bene. Ok, ricordiamoci. Ecco, se ho un mazzo, diciamo, Angeli, io che li amo, sono il mio mazzo, punto. È la mia esclusiva, veramente mi incazzo. Guadagna tre punti vita e pesca una carta. Ricordiamoci che la nostra prima spell dobbiamo pagare uno, se no c'è la counter. Ricordiamocelo. Siamo contro il mazzo Angeli, rido veramente. Mai visto poi quell'Angelo ne ho tanti, ma vediamo se ho capito giusto, speriamo di sì. Ok. Ma no, non ci credo, questo usa mana... No, vabbè. No, non ci voglio credere, usa il counter bianco. Questo è un coglione di me. Eh, questo è proprio già un coglione a priori. Mamma mia, che figlio di troia schifosa. Non ci voglio credere. No, vabbè. Mazzo, che dire orrendo è brutto. Cioè, come usare il bianco nella maniera più brutta. Vabbè, sei tutto fuori che un bianco. Io che il mio cuore preferito... Mamma mia, fai proprio schifo al cazzo. Non puoi usare il bianco così. Sei proprio indegno. Caro vecchio mio. Sei proprio indegno. Mamma mia, che brutte persone che ci sono. Cioè, usare il bianco così, dai. Cioè, veramente. Usare il bianco come un blu è proprio una bestemmia per chi ama il bianco. Ok, pescati la carta. E va a fare anche una politica corretta. Mamma mia. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Questa la levo subito dai maroni. Mi counter anche questa? Perché non so se Mario può fare qualche combo, ripescarci continuamente carte. Non voglio rischiare. Adesso io attacco, dai. Vai, fai qualcosa. Su, ti sto aspettando al varco. Ah no, credi? No, pensavo perché, fai, Mario usa anche flash. Questo è al bianco, ma gioca come un blu, cioè. Che ridicolo. Vado a giocare. Ciao, yes. Ciao, angioletto. Solo io posso usare gli angeli, brutto stronzo. Si permette anche. O si permette di usare gli angeli. E poi usa il counter bianco. Maledetto. Ok, il nostro bel gatto, il lord. Che dà più uno più uno a tutti i gattoni. Abbiamo anche un altro patto. Vabbè, anche devo usarlo per forza. No, scusate, devo farlo per forza. Ma che cazzo? C'è, ma che cazzo ragiona? Non ha niente. Ma zio Ken. Oh, madonna ragazzi, ma questo è veramente un fantastico angioletto. Ciao. Mi ha rotto il cazzo, questo angelo ridicolo. Pesca la carta perché è simpatico. Sì, sì, proprio fa le cose del blu. Ma che cazzo è? Non sopporto, non puoi rovinarmi così il blu. Pesca. Fa counter. Ancora... No, vabbè, ma sai, hai un culo che è una roba impressionante. Mai vista una bella del genere. Veramente illegale il culo che ha quest'uomo. Pazzesco. 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 Vecchio, cioè, giocare così il bianco veramente mi fa... schifo al cazzo. È proprio orrendo perché vuol dire proprio stuprare il più bel colore di magica, almeno per me. Col più brutto che è per me il blu. Ma scusa che poi... Ah no, è un angelo che vola. No, meno male perché mi sta cominciando a preoccupare. Va bene. Ah beh, certo. Rispettiamo il suo bianco bellissimo. Va bene. Eh, posso giocare? Adesso me ne farà un altro. My god. Ridicolo. Ridicolo. Per me. Per me sia ridicolo. Giocare il bianco così è ridicolo. Dopo non mi diverto. Ok. Ci pesca la carta. È così contento. Brava la caverna. Angel. È pericoloso, è pericoloso. Posso, vediamo se posso giocare adesso. Così si gioca il bianco, stronzo. Certo che il problema è chiaro che... So gli angeli che ci sono, adesso qua faccio un bel rischio perché... Può arrivare roba brutta brutta. Però giocare così, può giocare di mazzo angeli così, è una roba orrenda. Scusa, perché? Boh. Ok. Ecco, questa è una cosa da bianco finalmente. Madonna, incredibile. Allora. Vediamo se posso metterla. Assuriamo che si inventa. Abbiamo 3-9 vite, che non sono neanche poche. Oh, come godo. Come godo. Quanto te lo meriti. Quanto te lo meriti. Quanto te lo meriti. Si va a vincere la prima. Con un bianco che non ha niente del bianco. Io non lo sopporto. Mi violentano, mi distruggono, mi cambiano il mio colore. Ok, raga, andiamo. Avevo cambiato l'avatar per renderlo tutto più coerente. Abbiamo due terre e possiamo tenerla, dai. Andiamo a spaccare i culi. Ok, le mie creature entrano tappate. Che bello. Va bene, guadagno anche un punto vuota. Perfetto. Uh, quello, questo mi piace. Ecco, questo è il bianco che voglio vedere. Cioè, è fortissimo. Però, questo è il vero bianco. Ne ho un casino di mazzi così. Eh, qua purtroppo bisogna togliere perché queste diventano pericolose con altre carte. Se c'è a Heliod o anche lui a Gianni. So, dolori da panza. Almeno giochiamo con un bianco tradizionale. Ah, Gianni, welcome. Eh sì, questo c'è sicuramente Heliod. Ah, Gianni. Questa è tanta bella roba. Bella per lui, ma brutta per noi. Ok. Se non ha rimozioni, è buona questa. Adesso lui si prende i suoi punti. Si prende i suoi punti. Eh, ti prego, non avere, non avere rimozioni. Un altro welcome. Benvenuto a Gianni, benvenuto nella combricola. Ovviamente non attacca. No, non ho neanche il rosso, quindi non possiamo farlo. Ci richiamo la nostra bella. Vabbè, noi mettiamo tutto e freghiamocene. Vediamo le carte in mano, adesso guadagno, ma non guadagnerai in eterno. Tutto tappato. Bello, bello, mi piace. Qua ci divertiamo. Qua vediamo le potenzialità del nostro, della nostra creatura, del nostro cane, del nostro gatto. Rin e un seri. Ok. E se la parata c'è un motivo? Insomma, era molto tranquillo, quindi poteva anche tenersela. Bum, bum, ecco, acqua. Eh, questo è pesante. Sarebbe un rosso che non arriva, ovviamente. Fammi vedere. Questo è solo per le creature, cazzo. Difendiamoci così. Ok. Bel rischio mettere nove vite. Vediamo se è utile. Uno. Se lo distruggiamo. Ok. Perfetto. Bravo felino, bravo felino. Adesso prendiamo le bombe, però. Questa adesso si prende, si prende due, due creature a costo uno. Quindi notizia tra le più arrende. Siamo messi, non siamo messi male, però. Ok. Mi serve il rosso. Se servono altre varie, mettere più... Forse mi serve qualcosa, mettere una terra in più rossa, qualcosa in più. C'avete rotto il cazzo. One, two. Ah sì. Mettiamo tutto. Oh. 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 Ok. Ajani, welcome. Lo salutiamo. E anche questo... Solo che se li guadagnerà tanti di quei punti vita, mamma mia. Eh, dove è Solvarden? Hai capito, no? Il mignotone cosa vuole fare. Ha ragione, è bello. Vediamo questi mazzi qua. Vai l'altra. Olè. Adesso guarda, ogni volta che entra una creatura, si piglia. Tre punti vota. Se no, mi conviene tanto. E io qua non ho, purtroppo. Sai cosa ti dico? Mi tolgo l'angelo. Sì, magari non così, però grazie. Mi togliamo l'angioletto. Mi trovo sempre angeli contro, è pazzesco, eh. Sì, una cosa non li devo mettere più, più. Bimbu, 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 bimbu. Sì, sì. Concede? No. Speravo. Rischiamo, ma sì. Va a tre. Ok. Lui a tre. Adesso, tira fuori una rapidità, 17-17. Me lo sento, perché se non concede... Cioè, non so cosa può tirarci fuori dal cilindro. Il nostro, caribu, un vecchio... Death other. Death. Death door. Tic-tac, tic-tac. O apri i vieni... O apri i vieni il danno. Ha una carta. Esilo delle creature anche può avere. Ok, penso che è andata. Così ci siamo visti anche. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Ragazzi, questa è una bella vitale. Abbiamo visto il mazzo. E niente, siamo stati solo sculati. Avrei beccato comunque gente con mazzi, diciamo, non forti. Niente, solito il Comandone Veneziano. Vive i cani e vive i gatti. Ciao! Ciao!